Tu non hai un buon ricordo della società, dell'agrope? No, malissimo, malissimo. Penso che io cercavo una sistemazione, perché è brutto dirlo, una squadra nelle vicinanze di casa, perché non mi volevo allontanare, avevo una bambina piccola, comunque volevo stare vicino a casa, quello che ho potuto dare nel caso che conto l'ho fatto, anche nel mio piccolo, e mi è arrivata questa opportunità con il Presidente Ceruti e poco conosciuto di conseguenza anche Magna come direttore, il giorno stesso che ho firmato con l'Agropoli sono stati per un mese vicino alla squadra, dopo un mese sono spariti persone che non rispondono al telefono, non rispondono ai messaggi, che ti prendono anche in giro, non hanno neanche il coraggio di guardarti in faccia, sono persone che non fanno del bene al calcio, l'hanno fatto magari i primi anni, non so se è realmente stato così, però sto vedendo che stanno arrivando a Vertenzo ogni giorno, è un peccato, perché io conosco anche i tifosi con cui ho avuto un ottimo rapporto, è una piazza dove si sta bene, si può lavorare tranquillamente, comunque queste persone non fanno bene ad Agropoli. E ti dico pure un'altra cosa, io ho un'avvertenza che potrei fare anche domani, farla partire domani, non la faccio perché sono un signore. Questo credo che i tifosi te ringrazieranno per lungo tempo, sono umiliazioni che la città sta purtroppo avendo, ma andiamo avanti.